Sono sempre disponibili due o tre distributori posteriori, comandati da leve singole o a croce, e non me ne ricordo più. Comandati da leve singole o a croce. Comandati, non comandanti. Ho detto comandanti. E duplicati, non è vero che non c'è scritto duplicate da nessuna parte. E da piedi, non me ne ricordo questo... E non ce la faccio. L'idraulica del trattore può essere arricchita con tiranti e stabilizzatori elastici. Aspetta, è disponibile un selvatore, anteriore compito io, mille giri, con capacità di sollevamento, 1.500 kg. Italia 1. Ok. E fino a 5 video entrati. Ce l'ho però, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho ragazzi. Vento. Però è piacevolissimo. Guardate che pazza, è l'amico. Ma non c'è un ventilatore o qualcosa? No, effettivamente fa caldo. Il passaggio allo State 5 è avvenuto tenendo... Vento. Di... È uno scioglilingua però, eh. È protetto da due... Adesso non me la ricordo più, così. Due schermi. Due schermi. Che ho fatto anche la pronuncia in inglese, Vanni. Eh, questo mi preoccupa un po' Vibration Dumping. Le versioni TTV? No, perché mi sono alzato. Guarda che nel mio meccanico si può impostare l'impost... Eh, l'impostore. Sì, sì, quello. Impostare l'impostore. O con i bracciotti. No, cazzo! Stiamo andando bene! Stiamo andando bene! Stiamo andando bene! Dai, dai, che ce la favo.